allora Filippo in versione ad Alizia stai benissimo Filippo te l'assicuro commentiamo intanto questa partita una partita davvero bella di Perugia concreta pochi errori tanta pressione al servizio tanta qualità in difesa un punteggio netto e un bel titolo di campione d'inverno direi un ottimo regalo di Natale è stato fantastico perché stasera è venuto è venuto un po' tutto il nostro gioco è stato fluido non abbiamo avuto quei momenti insomma di buco dove delle volte perdiamo il filo del gioco è stati molto bravi anche perché Milano gioca bene non andava sottovalutato senti si gioca bene chi ha il pallabarton davanti al nostro pubblico sì c'è poco da dire insomma sono fantastici ogni volta inventano una coreografia nuova è proprio bello bello stare con loro bello essere sostenuti da loro e auguro a tutti loro un ottimo Natale senti l'ultima cosa non odiarmi fra tre giorni siamo di nuovo in campo una trasferta difficile dicevamo con Luciano a Latina non c'è possibilità di riposarsi ma dobbiamo partire bene anche in questo ritorno no sì siamo abituati a giocare di Natale qualcuno ci vuole male noi giocheremo questo ci ci tocca festeggeremo insomma con la squadra anche perché siamo la siamo una famiglia siamo un insieme di persone che insomma condividono lo stesso obiettivo anche il Natale sarà condiviso insieme tutti quanti in famiglia grazie Filippo intanto tanti auguri grazie a voi tanti auguri grazie 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 grazie